Buonasera cari amici iscritti del canale, da poco finita Salernitana-Napoli, ragazzi, vittoria dei Partenopei per 1-0 grazie a un gol in una semimischia di Piotr Zielinski. Ragazzi, questa è una vittoria molto importante per il Napoli, molto importante perché non è stata una partita per niente affatto scontata. La Salernitana ha giocato il mutuo molto dignitoso e secondo me, diciamo che alla lunga, non dico che meritava il pari, comunque secondo me meritava un qualcosa in più. Nel frattempo qui, vabbè, stanno adesso inquadrando tutti quelli che escono. E quindi ragazzi, Napoli vince una vittoria, vince una partita molto sofferta ragazzi, molto sofferta e quindi momentaneamente si prende la testa della classifica in attesa del big match questa sera tra Roma e Milan. Come ho detto, non è stata una partita semplice per il Napoli e quindi questa è una vittoria di carattere considerando che mancava pure l'uomo di punta, Ozyman, Insigne non ha giocato. Mertens e Lozano hanno fatto schifo ragazzi, di fatti sono stati sostituiti nel secondo tempo. Voglio dire soltanto una piccola cosa, qui non è per far polemiche ragazzi, non voglio fare assolutamente polemiche. Allora, l'espulsione di Castagnos per quel brutto fallo su Koulibaly, il VAR lì è andato a vedere. L'entrata di Maximo Lopez, che non dico che è stata la stessa, però è stata alquanto brutta e secondo me anche quella era da cartellino rosso, lì il VAR non è andato assolutamente a vedere, non è assolutamente intervenuto. Allora, come funziona ragazzi? Due pesi, due misure? Ecco, per esempio le Iene invece di rompere i coglioni andassero a fare il servizio su queste cose qua e non a rompere i coglioni su altre cose come da far passare il messaggio che la Juve ruba. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti e... bella!